Ciao a tutti ragazzi, sono Martina, bentornati sul canale Oggi andiamo avanti con un nuovo video di The Sims 4 Questa volta ci troviamo con Vanessa e Riccardo nel cast Perché vi faccio vedere alcuni abiti che ho aggiunto per loro Perché mi sembravano un po' pochi quelli che avevano Ho fatto la stessa cosa così come ho fatto per Enrica e Lorenzo In alcune sezioni li ho aggiunti, in altri no Quindi vediamo un po' Allora per quanto riguarda il quotidiano, io ne ho aggiunti due Allora questo è il suo solito che diciamo più invernale Mentre il secondo è diciamo un po' più estivo se così vogliamo Anche se comunque ha un jeans lungo però almeno ha la manica corta E mi piace, soprattutto la maglia, mi piace tanto Il terzo invece è quando lavora al tavolo robotico O va un po' alle manutenzioni, no? Ce la vedo Finché non abbiamo la nostra tuta esomeccanica Con tutto il casco, il rovo braccio Questo è il suo abito Per quando lavora insomma Poi per gli abiti formali è rimasto il solito Per gli abiti invece da forma fisica, quindi da atletica L'ho aggiunto questo qua con quindi le maniche e le braghette corte Da notte l'ho aggiunto quello estivo, quindi con la canottierina Da festa ho aggiunto questo qui Questo abito qui Mentre questo è il solito Il clima caldo ho aggiunto questo qui È un po' più, non so, tipo prendi sole, ecco Mentre per il clima freddo abbiamo i soliti Mentre per quanto riguarda Riccardo Riccardo non mi ricordo se l'avevo fatto granchè Sinceramente Sì, questo non l'avete visto ancora Sempre per quanto riguarda l'estivo Il formale è il solito Lo sportivo è questo qua con il pantaloncino corto Poi da notte anche lui la maglia e il pantaloncino Da festa avrà una maglietta più corta Come potete vedere Il costume è il solito Mentre l'estivo ho aggiunto anche questo Per quanto riguarda da spiaggia Il secondo estivo o il terzo di solito Ai sim ce lo metto come quando devono andare in spiaggia o in piscina Quindi quando fa veramente caldo Comunque copre il costume perché vedete Lui ha sempre il costume Però ecco con la maglia Mentre per l'inverno è uguale Non è cambiato niente Quindi torniamo in partita Perfetto Allora Riccardo è andato al lavoro Gli ho detto di andare al lavoro Mentre oggi Vanessa è a casa Quindi magari abbiamo un po' l'opportunità di stare un po' con lei Di andare magari in giro Trovare i nostri genitori E la nostra piccola Gloria Che è cresciuta Beh cresciuta insomma L'ultima volta l'abbiamo vista appena partorita Quindi diciamo che Facciamo finta che siano passati un po' di giorni Ecco Tu crea dei contatti Che carina E poi dovremmo avere un'altra tutina Che però ce l'ha Riccardo nell'inventario Esatto Quindi magari la proveremo Ah con lei oggi potremmo Sapete cos'è che potremmo fare Visto che è a casa Potremmo Facciamo finta Insomma che Venga a casa la nostra babysitter Perché se viene a casa E io vado via Dovrebbe sparirmi lo stesso Visto che noi abbiamo queste Queste Come si chiamano? Ah statuine Potremmo vendercele al mercatino Che abbiamo visto il mercatino dei dolci Noi potremmo arrivare lì Usare un tavolo E vendere le nostre statuine Prima però Vorrei Visto che è flirtante Iniziamo con La creazione di sculture Questa volta Civettuole Perché così Magari Riusciamo a vedere anche Questo tipo Anzi no Aspettate No mi è tornata felice Aspetta aspetta So io dove farti andare Ok ci mettiamo la nostra tuta Per quanto riguarda Le costruzioni Perché anche per lavoro Dobbiamo costruire Un meccanismo Quindi vediamo Ok tornatene qua Che dovrebbe esserci Laura Flirtante Adesso Adesso trovarla Eccola qui Trovata Laura Flirtante Vieni Che iniziamo a costruire Queste sculture Civettuole Io ne faccio sempre tre Perché tre sono Tre tipologie sono E vediamo un po' Se riusciamo A A costruirle Tutte tre Intanto Gloria Non ha bisogno Di attenzioni Mi è diventata ispirata Adesso Però non so Se Mi tiene conto Di queste due Come Civettuole Però vabbè Come potete vedere Abbiamo anche queste No Che noi abbiamo doppie Perché me le aveva costruite Doppie Tra l'altro Proprio tutte e due Entrambe doppie Ne rimane una terza Che è Quella di Un sim Comunque Furente Poi c'è questa Che mi piace un sacco Che è una scultura Giocosa Quindi di giocose Ne abbiamo vista Solamente una E per quanto riguarda Le altre Dobbiamo ancora vedere C'è sto ceppo di coltelli Che non lo vuole nessuno Gloria Per fortuna Si è addormentata Quindi Perfetto E Sì Il ceppo di coltelli Non lo vuole nessuno Quindi potremmo mettercelo Che ne so Magari qui Ma sì Dai Così va benissimo E il nostro Scheggia Dov'è? È venuto qui Ah è venuto qui A farci un po' di compagnia E questo Chi è? Alessandra Alberghini Ah se notate In giro Dei sim Delle unità familiari Presenti Che sono presenti nel gioco Rimodificati Eh ci sto mettendo un po' La mano io Perché appunto Non potevo vedere Vederli così Allora Li ho cambiati ragazzi Perché non mi piacevano Più di tanto Perfetto Abbiamo Uh che carina Questa statuina Mi piace un sacco Questa qui È la scultura Civettuola Con due cigni Purtroppo Non ci sale Qua in alto Mannaggia a loro E niente La mettiamo qui Per il momento Ed è bellissima Con questi due cigni È veramente Molto bella Mi piace un sacco E vediamo Possiamo tenercene alcune Io queste qua Le venderei Quando abbiamo trovato Anche la terza Le venderei Ancora con i mercatini E mentre queste qua Civettuola E flortanti Sono belline Alcune magari Potremmo tenerle In giro per casa O Magari Qui in giro Per Potremmo metterle Quassù Ecco Madonna Mi piace Troppo questo garage Mi piace tantissimo Mi piace Come è uscito Veramente Mi piace tanto Mi immagino proprio I classici garage Delle case Americane Ok Abbiamo ragazzi Scheggia Che ci è Proprio Di fianco Questa mattina E intanto Ah è proprio Scheggia Che voleva qualcosa Da noi Va bene Allora Tu Ricky Come stai andando Guarda Forse riusciresti A portarmi a casa Anche una bella promozione Quindi Lavora sodo È che non abbiamo fatto L'incarico del giorno Perché appunto Non gestivo L'unità familiare Però pazienza Va bene così Ok Ci siamo È sempre Scultura Civettuola Questa volta Sono due Pulcini Eh eh Sì O pinguini Pulcini Pinguini A proposito A proposito Di pulcini Ragazzi Eh In questi giorni Eh Dovrebbe essere Già uscita Se non carico Prima Questo episodio La La nuova espansione Vita di campagna Ragazzi Io sono Felicissima Non ve l'ho detto Prima Perché appunto Eh Volevo vedere Qualcosa di più Però già dal trailer Ero veramente Felicissima Io sono contentissima Amo Tutto ciò che riguarda La vita di campagna Per quanto riguarda Il gioco E quindi sono Veramente Felicissima Non vedo l'ora Di scoprirlo E eh Ci sarà Una famiglia Del gameplay Principale Con cui vedremo Bene Quell'espansione Però mi ci vuole Ancora un po' di tempo Eh Mi ci vuole un po' di tempo Perché È appena iniziata La generazione Quindi io Non vi dico niente Due bambini Sono nati Però Non vi dico niente Ecco Quando sarà il momento Ve lo dirò Assolutamente Allora C'è bisogno Di Gloria Che sta piangendo Questa bambina Allora Cambia il pannolino Sporco Nutri Allatta E coccola E tra l'altro Ragazzi Guardate Ironia della sorte Abbiamo fatto Tutti Tutti e tre I pezzi Civettuoli Quindi Con anche Questa parte qui Flirtante Abbiamo fatta Con la fiduciosa Non ce n'è Tutte queste Altre sculture Vediamo Se farle Ma Volevo vedere Solamente Queste qua Civettuole E quindi Io direi Di tenere Il tronco Perché è bellino Mi piace E invece Venderei Questa E venderei I cigni Anzi Vendiamo Il tronco E ci teniamo Il cigno Ma i cigni Dove li mettiamo? Li mettiamo Ah non ci stanno Neanche qui Vabbè Poi casomai Col move object Ragazzi Sposto il tutto Ok Enricchia Che ora mi torna a casa Alle 16 Perfetto Potrebbe prendermi La promozione E noi Così In questo modo Ragazzi Riusciamo ad andare Ai mercatini E provare A fare Il nostro Di mercatino Dunque Fa freschetto Però io metterei Comunque questo Quindi Tanto non ci perdiamo Tanto tempo Ecco i mercatini Giusto per farci un salto Venderci magari Quelle quattro Statuine Che abbiamo E basta Poi torniamo a casa Perché comunque Torna Riccardo E c'è Da badare Insomma Su social A Gloria E anche Al lavoro Di Vanessa Col fatto che era a casa Oggi Ho approfittato Ok ragazzi Eccoci qua Gloria è stata mandata All'asilo Io direi comunque Di stare con Questi abiti qui Fa freschetto Qui a Windenburg Non piove Per fortuna Però è primavera Quindi Direi di non metterci Il cappotto Io direi Di stare Anche così Tanto Si sta Piuttosto bene Quindi Io direi Di non perdermi Troppo in chiacchiere Perché ho paura Che Mi possano fregare Il I tavoli Quindi Qua Ho lasciato Lo spazio Apposta Per quando viene Erika Perché così Si mette Il suo Il suo tavolo E siamo E siamo a posto Qui tra l'altro Potremmo trovare Delle cose Che Va bene Va bene Ok Veniamo qui Quindi visualizziamo L'inventario Di questo tavolo E iniziamo Ad aggiungere Le nostre cose Quindi Questa Questa scultura Ah Questa è una scultura Triste Perché non lo posso fare Non lo posso fare Perché non ho Il mio Di tavolo Allora ragazzi Siamo tornati Ma alla fine Ho cambiato Tavolino Gli ho preso Questo qua Che è comunque Rosa E mi piaceva E così Abbiamo modo Insomma Di vendere Le nostre statuine Tra l'altro Vedo qua Stormi Fantastico Allora Visualizziamo L'inventario E aggiungiamo Tutte le statuine Tra l'altro Mi pare di aver capito Che questa È triste Scultura triste E quindi Dobbiamo ancora Vederle Le sculture tristi Mentre queste qua Anche quelle giocose Quindi Al momento Abbiamo solo Queste Da poter vendere Perché Non abbiamo altro Quindi vendiamo Queste quattro Giusto Per E riempiamo Il tavolo E carichiamo Magari il prezzo Un po' più alto Questa volta Quindi quando saremo tristi O giocosi Ci mettiamo su Con le statuine Occupiamoci Del tavolo Vabbè Non riesco A fare le altre cose Ma Aiuto Ok Va bene Siamo in un qualche modo Riusciti a vendere Quindi Riempiamo Il tavolo Con L'ultima statuina Che ci rimane Che ovviamente Ho perso Ah no Perché è qua dentro Quindi dobbiamo Visualizzare L'inventario Ok Non capisco Cosa sta succedendo Vabbè Ok Intanto due statuine Le abbiamo vendute Ragazzi Va benissimo Non capisco In che modo Sono state vendute Ma Va bene Lasciamo perdere Ok Nostra madre È già andata via C'era Stormi Qui ma Non la vedo più Non la vedo più Qua Sono rimasti Dei quadri Ok Intanto È stato promosso A funzionario Commerciale Anche guadagnato Ok Tutto simonion Persuadi i sim A sorridere Inveire Oziare Flirtare Indostrare Costumi Da procione Addirittura E lui lavora Da lunedì a venerdì Dalle 8 alle 16 Ok Vediamo un po' Cosa dovrebbe fare Ok Scrittura E carisma Già lo abbiamo E dovremmo creare Una rete di contatti Con i giornalisti Va bene Io però Volevo finire Ma perché Mi si è tutto Buggato Come al solito Ci sono i bug Ragazzi Allora Vediamo un po' Cosa vendono Questi altri Delle candele Ma direi di no Altre candele Vedo qua Summer E anche nostra madre Dai salutiamo Allora Racconta una barzelletta Sui vecchi tempi Ok Altre candele E poi Dei succhi La soda Però qua Non mi fa Comprare Vedete che Posso farlo Allora Libera il tavolo Boh Mi sembra Alquanto strano Questa cosa Però vabbè Mi sa che Mi si è Buggato Perché non riesco più Ecco Adesso riesco a prenderlo Ok Adesso riesco a farlo Visualizza l'inventario Riproviamoci Ci riprovo Ok Riempi il tavolo Ce la facciamo? Puoi farlo Intanto che socializzi Grazie Cioè dovremmo essere Multitasking Noi donne Perfetto Occupati del tavolo Non mi fa però Iniziare la vendita Oh Ecco Questo volevo Quindi ricarico 200% Facciamo 300 Perfetto E inizia la vendita Ah ma è Stormi Che sta vendendo Qui No Impossibile Da dove le ha tirate fuori Queste solda? Non lo so Va bene Ok Ce la possiamo fare Ragazzi Perfetto Allora Lui a casa Direi di Perfetto Abbiamo già completato Fantastico Benissimo Benissimo A questo punto Ci mettiamo nell'inventare Perché noi abbiamo Terminato È stata più veloce Del previsto È che purtroppo Mi si era buggata Non capisco Non capisco il motivo Allora qua Non c'è nessuno Da prendere da mangiare Anche lui Ha completato La sua vendita Finalmente Si era un po' Buggato lui Mi sa Sì Credo proprio Si fosse buggato Il tipo Ah però Vedo che qua ci sono C'è il chioschetto Dei cupcake Ordiniamo Una bevanda Beh Ordiniamo Del cibo Facciamo Un cupcake Alle fragole E ordiniamo Anche una bevanda Un caffè freddo Dai E poi Ce ne torniamo a casa Perché appunto È in bicicletta Ma Lo scalino Come lo fai? Ah così Lui è un po' Teso Ha bisogno di divertimento Allora Prenditi un po' Cura di te Adesso tanto Torniamo a casa Perfetto Vorrei prendere Ah ma anche lui No lui ok Non ha bisogno di mangiare Quindi noi ci facciamo La nostra merenda E direi che A questo punto Sei capace Anche di farmi Una telefonata Magari Anzi Facciamo proprio così Facciamo una telefonata A Jessica A Jessica Dai alla suocera Chiacchiera Vediamo Sei capace Di fare Entrambe le cose O Solo una Ok Intanto abbiamo Bevuto un po' Di caffè Che così Rimane un po' Sveglia Un po' Carica Per la serata Perché adesso Dobbiamo tornare a casa A fare la nostra Bellissima robotica Perfetto Dopodichè ragazzi Torniamo a casa Perché dobbiamo Accogliere il nostro Riccardo Che è stato promosso E tra l'altro È a livello 7 Il prossimo è Direttore delle comunicazioni Quindi in quanto Funzionario commerciale Gestisce un intero Marchio Tutti coloro che ricevono Informazioni sulla tua Azienda Sono in mano tua Coltivi il pubblico Di riferimento più adatto E poi piazzi E diffoni articoli Su prodotto Con precisa chirurgia Con precisione chirurgica Perfetto Vanessa ha terminato Quindi torniamo a casa Ok Siamo di ritorno E noto anche Che siamo Alle luci Del tramonto Ed è Bellissimo Allora Intanto Ti cambi subito Con la nuova tuta Che ti ho messo E Gloria Ci pensa papà Ci pensa papà Non ti preoccupare Allora Le statuine Le abbiamo vendute Quelle che volevamo Mi sa che ho venduto Anche il tronco Sì Però è quello Che dovevo Vendere Quindi Dobbiamo per Lavoro Costruire un meccanismo Quindi Vieni qui Costruisci un meccanismo Vediamo Oh È attaccato al computer Accidenti Ma vieni qua Fatti vedere Con questa veste Qua Da Direttore Funzionario Commerciale No Girati Ah però Che figurino Allora Anche tu Ti cambi Ci mettiamo Gli abiti quotidiani I secondi E creiamo Una rete di contatti Quindi Sempre Dal lato Un po' sportivo Lui Però Abbiamo sempre Da rappresentare Continua la rappresentanza No 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 Ma aspetta Io devo fare Dove Social network Vediamo se si sono sbloccate Delle nuove interazioni Ma mi pare di no Allora Creiamo una rete di contatti E Aggiorniamo lo stato Che appunto Siamo stati promossi E poi Condividiamo un'immagine Dai Ci sta Mi piace E poi andiamo da Gloria Perché sicuramente Si sveglierà Ah vediamo anche se ha lui L'altra tutina Esatto Esatto Io questa la vorrei cambiare Vorrei metterle questa Perché questa ormai L'abbiamo vista Abbastanza E dopodiché Rimuoviamo la tutina E ci mettiamo Quell'altra Allora Lei è entrata In modalità Amo la robotica E tra poco Dovrebbe entrarmi In Animale notturno E Mascheggia Cosa stai facendo No vabbè Connessioni ideali Per continuare ad avanzare In questa carriera Ah ok Va bene Ah tra l'altro Avevo detto che Avrei messo dei divanetti Magari qui E Sì Magari Ce ne metto Due Metto Lo stesso di Bimini Simile Sempre rosso Simile a questi Qui E che così Almeno si Si addice Un po' di più Questo giardino Insomma c'è un'area Conversazione Bene bene Lui è diventato Concentrato Per via di Ottima capacità Relazionale Per aver creato Una rete di contatti Wow Ok allora Lei ce la presentano Così Quindi a questo punto Vesti il neonato Con una tutina No Perché io voglio Che le metti Questa Ah Non possiamo Farlo Regala No Vesti il neonato Con una tutina Ma fa caso Ah ma questo È per Bebè No ragazzi Sono cecata L'ho visto dopo Che era per Bebè Vabbè Così ce l'abbiamo Già per Per Bebè L'ho visto dopo No ragazzi Sono cecata Non ce la posso fare Non ce la posso fare Mamma mia Ah che stordita Scusate Va bene Allora dai Coccoliamocela Un po' Dondola Fai una faccia buffa E Coccola Vanessa ha ultimato Il meccanismo Arriviamo subito Quindi Eravamo qui Allora I giocattoli No Dovamo fare I robot di servizio Comunque Però Ci manca Il robot Da festa E quello pulitore Da festa Possiamo farlo Sì Facciamo quello Da festa E invece Per quanto riguarda I dispositivi Cibernetici La tuta esomeccanica No Mamma mia ragazzi Quanta roba Che ci manca ancora E invece Qui Il casco No Allora A questo punto Andiamo avanti Con la robotica E costruiamo L'altro robot Di servizio Io farei questo qua Robot da festa Visto che tra poco Si avvicina Una festicciola Rosa Floreale Però anche questo qua Blu arcobaleno Non è male Allora Nero Mi sembra un po' triste Dai facciamolo rosa Come lo vuole Vanessa Appunto Perfetto Vediamo Vediamo Uuuuh Che No In braccio con papà Sei Sei in braccio con papà Vediamo Se riusciamo a fare Una fotina Sei in braccio Con papà Guardalo lì Come se la goda Essere il papà Eh Eh vabbè ragazzi Non mancano le foto È qui Come se la coccola Però eh Ah Com'è cresciuto Ragazzi Come sono cresciuti I miei I miei Sì Mamma mia Uuuuh Che fa le facce buffe Guardalo Eccolo qua Dai Se la sta godendo Anche lui Però Questa Questa figlioletta Eh Sì 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 Oh Che cari Che l'è Ok Allora Si arriva il momento Di mangiare Quindi Vediamo un attimo Se abbiamo qualcosa In frigo Altrimenti Glielo facciamo preparare A lui Sì Abbiamo qualcosa Di avanzato Sì Direi di Pranzare Cenare fuori Tanto Va benissimo Ok Vediamo Quanto manca Vanessa Ma A parte che Vanessa Sta bene Direi che Sì Ricky Può Venire fuori E mangiare Per conto proprio Perfetto Rispondiamo Alla posta Allora Aggiungiamo la storia Su Instagram E Rispondiamo Alla posta Poi lo vedo Abbastanza stanco E Direi che Poi Lo mandiamo a dormire Anche perché Domani Alle 8 Quindi ha anticipato Il lavoro E quindi Sì Direi che Lo mandiamo A dormire Insieme A Gloria Perfetto Mentre lei Ecco che è entrata In modalità Eccolo qui Perfetto Allora ragazzi Intanto che Riccardo Va A dormire Perché appunto È un po' stanco Ma resta Lei Rimane qui Perché comunque Sta bene Domani si lavora Ma Li facciamo Lavorare Da casa Tranquillamente E E basta Quindi Lei adesso Continuerà A costruire A finire di costruire Questo robot Che guardate Piano piano Prende forma E basta Quindi Facciamo così Adesso vado un attimo Avanti veloce Perché lo vorrei vedere Insieme a voi Quindi appena Finisce Lo vediamo In azione Allora ragazzi Siamo Direttamente La mattina seguente Ma Vi faccio Vedere solamente Questa cosa Molto veloce Allora intanto Riccardo mi lavora Da casa Oggi Dove vai tu? Non stai fuori? Ah Ma scusa Ma c'è C'è caldino Vai fuori Dai Siediti Appunto Dicevo Si sono già alzati Devono fare colazione Riccardo si sta Preparando Insomma Per Per il lavoro Per affrontare la giornata Tra l'altro Vediamo Ah Mamma mia Chiacchiera del lavoro Due volte Con i colleghi Noi ne abbiamo conosciuto uno Quindi magari Io lo faccio fare E pronuncia un discorso Ai quartieri alti Lo lasciamo perdere Perché ha sempre Vita in città Mentre per quanto riguarda Vanessa Non è riuscita a finirmi Il robot Perché Si è folgorata Però veramente Mancava pochissimo Quindi Riprendiamo Riprendiamo Con la costruzione Niente Anche Riccardo Ha deciso Di andare dentro Va bene E basta Ecco Quindi Adesso appena Lo termina Termina la costruzione Terminiamo anche L'episodio Poi comunque Durante la notte Si sono svegliati Per Gloria Perché appunto Aveva fame E doveva essere Allattata Ad essere Cambiata di pannolino Ma ci ha pensato Il papà Perché appunto Era quello che stava meglio Col fatto che è andato a dormire Presto E appunto Riuscito lui Poi lui Ha bisogno Di divertimento Allora Le assegnazioni lavorative Magari le lasciamo anche perdere Tanto Visto L'ultima volta Cioè Ieri Ieri sim Diciamo Ha conosciuto questo Alessio Come collega Tra l'altro È iniziata la votazione Ma Vediamo Cosa possiamo Votare Vediamo Cosa possiamo votare Vota per i piani D'azione Non so neanche Che votazioni ci sia Ok dai Ci siamo quasi Che così poi Lo Mettiamo un attimo In azione Qui fuori E vediamo un po' Com'è Ok Che bello Ma è proprio carino Allora Mettiamoci Gli abiti Estivi Allora Lo voglio proprio provare Vieni qui fuori E adesso Lo proviamo Perché sono curiosa Di vedere Com'è Poi dopo Lo utilizzeremo Per le nostre Festicciole Lo azioneremo E vediamo un po' Cosa può fare Allora Ci sono anche le bollette Quindi le paghiamo anche Già che ci siamo Paga le bollette 9000 Accidenti Meno male che abbiamo Anche il pannello Ecco appunto Parlando di pannello solare Potremmo Votare per questo piano Piano di azione Quindi possiamo Permetterci Lusso di vivere In un modo Che ci fornisce Tutto l'ecestero Dobbiamo solo imparare A imbrigliarne L'energia Con questo piano D'azione Per l'energia pulita I membri Le comunità Saranno ricompensate Con influenze Per il possesso Di funzionali Oggetti Che producono Energia pulita Noi ce ne abbiamo I pannelli solari Quindi proviamo Con questo Vabbè dai Facciamo 5 Mi sembra un po' Esagerato Ok Poi facciamo votare Anche a Vanessa Perché ovviamente Lei Va per Tutta questa Nuova Di tecnologia Allora Vieni anche tu qui Che sono curiosa Anche per te Com'è questo Questo robot Tra l'altro Abbiamo Un nuovo Vaso Che ci è stato regalato Credo Da nostra madre Io direi Di posizionarlo No Scheggia Effettivamente Non aveva più Tutte queste attenzioni Da Vanessa No Dai Va bene Poi la prossima volta Pubblicheremo L'annuncio Proviamo a metterlo A piazzarlo qui Dai Non è male Non mi dispiace Poi Pubblichiamo L'annuncio Ragazzi Prima di Prima di chiudere Pubblichiamo L'annuncio Allora Vediamo un po' Com'è questo robot Aziona Attiva Tra l'altro Si possono anche Nominare No Fa te Ok E questo va in giro Immagino Oh Lei è triste Oh mamma mia Allora Attiva la modalità Festa Cosa fa Corriandoli Cosa fa Gira Gira su se stesso Devo stare qui Impalata a vederlo Non si può fare altro Ordina del cibo Addirittura Formaggio Formaggio Frittelle Beh dai C'è ampia scelta E poi Disattiva Disattiva Robot Ondeggia Ritmo di musica Ordina Una bevanda Beh Ah Per l'abilità Acqua Succo Con ghiaccio Dolce Speziato Forse probabilmente Con il fatto che Si possono Collocare sulla postazione Per migliorarli Credo si possa fare Probabilmente Con questi Con queste abilità Che migliorano Cioè con l'avanzamento Di aggiornamento Forse vedete Livello di aggiornamento 3 Potrebbe Avanzare Nell'abilità Però Non lo so Vedremo Allora Ok Poi Era solo per vederlo Così Allora Disattiviamo Robot E poi Dai ma Sblock Per te No Su Ok Allora Internet No Non è qui Ma Pubblica Un avviso Sull'animale Scomparso Ok Questo adesso Ce lo riprendiamo No Ho detto Disattivati Ok Si è disattivato Non mi si è disattivato Stiamo facendo Un po' troppe cose Vabbè ragazzi Allora Comunque Oh Che triste Amore No Non essere così Dai Tornerà Tornerà Allora ragazzi Direi Con questo video Per oggi Ci fermiamo qui Ci vediamo poi Nel prossimo Con altri Aggiornamenti Per quanto riguarda Le nostre Unità familiare Quindi Lasciate un like Se il video vi è piaciuto Un commento Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao